Corrado Battisti 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 Una è quella della caccia diretta, persecuzione diretta e questo controllo però deve essere autorizzato dalla regione, prima deve essere fatto un piano di controllo, devono essere abbattuti solamente alcuni esemplari perché se si abbattono esemplari che potrebbero poi dare via ad altre riproduzioni, è un argomento un po' complesso, richiede tempo per spiegarlo, ma comunque vanno utilizzati serie i controllori che abbattono solo alcuni individui. Non è il nostro caso però. Perché? Per quanto riguarda Torre Flavia, che è un monumento naturale, non vengono effettuati abbattimenti ma solamente rimozioni controllate. Noi l'abbiamo fatto anche in altre riserve, ad esempio la riserva di macchia di gatta cieca del barco dove sono stati rimossi oltre 70 cinghiali che danneggiavano parecchio sia la vegetazione che i campi agricoli e poi sono stati portati via da alcune aziende che hanno acquistato questi animali e li hanno liberati nelle loro aree. Quindi questo è un metodo incruento, non ammazza gli animali, non li uccide, al tempo stesso però li rimuove da zone sensibili. Ecco, soprattutto sotto questo punto di vista, a questo aspetto voi avevate elaborato un progetto e aspettavate il via libera perché si parlava anche di mettere delle gabbie, ovviamente controllare e tutto quanto. Ma a che punto è quel progetto? Allora, tenete conto che ci vogliono i tempi dei progetti. Allora, la regione dice che quando si vuole avviare un piano di rimozione e controllo del cinghiale deve essere redatto un progetto. Cioè bisogna sapere quanti esemplari ci sono, quanti maschi, quante femmine, quante giovani, dove stanno, quanto si riproducono. Tutte queste informazioni perché poi si avvia il piano di rimozione. In un'altra riserva nostra, e questo è stato fatto, ma anche nel Lazio si fanno queste cose, per esempio al Bracciano, a Nazano. Da noi deve partire questo progetto, questo piano di controllo. Quindi prima è individuato il campione di esemplari, quanti sono, il rapporto sessi, gli individui giovani, adulti e dopodiché si procede con gabbie e gattura alla rimozione. È chiaro che ci vuole un po' di tempo. Purtroppo sono processi lunghi perché esistono le norme, esistono le leggi, non si può procedere andando lì e rimuovendoli con atti di bracconaggio. Quindi si potrebbe parlare di un'altra estate tra cinghiali, fratini e corrieri piccoli? Probabilmente sì, probabilmente sì, c'è poco da fare. Una palude che si sta popolando di tantissime specie, abbiamo i granchi, i blu... Esatto, manca il dinosauro e ci avremo tutto. Ecco, invece qualche consiglio per i frequentatori della palude, visti i così tanti esemplari dal fratino, sappiamo che non vanno calpestati i nidi, non bisogna avvicinarli. Per quanto riguarda invece i granchi blu, magari molti hanno paura perché sono un po' più grandi, quindi magari ti afferrano, ti potrebbero anche fare del male. Il cinghiale poi non ne parliamo. Esattamente, allora ci sono queste tre cose da sapere. Chi viene a Torre Flavia non deve andare sulle dune, perché sulle dune a parte ci stanno i gigli, le piante della duna e poi ci sono i nidi del fratino. Lì non bisogna scavalcare le staccionate né i recinti che stanno davanti alla torre. Non bisogna venire col cane, purtroppo non si può venire col cane. Il cane è un animale che anche il cuccioletto, il barboncino, l'animale di casa, per l'animale che sta a covando rappresenta un pericolo. E siccome abbiamo solo dieci coppie nel Lazio di questi fratini, sta in via d'estinzione, quindi è importante anche il fratino, oltre che il cane. E terza cosa, tra l'altro per i canari stiamo pensando, tutti i padroni dei cani, di dare dei gadget. Tutti coloro che hanno un cane, se vengono alla casetta, mi fanno, mandano un messaggino o vengono da noi, ricevono dei gadget. Perché a noi dispiace, in fondo, che viene col cane una bravissima persona che ama la natura e quindi su questo stiamo lavorando. Seconda cosa, i granchi. Allora, se trovate dei granchi blu, ovviamente, non ve lo devo nemmeno dire, sono talmente grossi che certo non li afferrate. Qualche bambino potrebbe essere incuriosito nel catturarli, attenzione perché fanno un po' male, però non è nemmeno il caso di dare panico. Terza cosa, i cinghiali. Le ore, allora, i cinghiali non attaccano direttamente, attacca la scrofa che ha i cuccioletti vicino, ma non è il nostro caso. Comunque, vedersi un cinghiale a due o tre metri spaventa e soprattutto in macchina può attraversare di colpo e impattare sull'auto. Quindi, mattina, all'alba e al tramonto, questi animali si muovono di più. Quindi, evitate di frequentare la valuta di Torre Flavia all'alba e al tramonto e evitate di percorrere via Roma e via Fontana Morella a velocità elevata, perché loro spesso si buttano sulla strada e questo può creare problemi. Grazie.